Cristina Marino in versione sportiva mostra come sempre un corpo mozzafiato ai fan fa sapere che ci sono novità in arrivo è meravigliosa Cristina Marino torna ad ammaliare i suoi tantissimi e affezionati follower con la sua sensualità e la sua incantevole bellezza poco fa sul suo profilo instagram ha postato una sua foto che sta facendo girare la testa a tutti nello scatto la bellissima modella e attrice indossa un outfit sportivo e mostra come sempre un corpo statuario è bella da togliere il fiato alla sua perfetta forma fisica ci tiene molto grazie agli allentamenti e al suo sano stile di vita vanta curve da paura nella didascalia del post fa sapere ai fan che ci sono delle novità in arrivo ma non svela di cosa si tratta ancora una volta con la sua bellezza e il suo corpo da favola sta conquistando tutti Cristina Marino è stupenda e fa sognare tutti coloro che la seguono e la amano i suoi post fanno sempre il pieno di complimenti e lì che non è certo la prima volta che Cristina Marino lascia i fan senza fiato con la sua assurda bellezza e il suo corpo da urlo spesso pubblica scatti e pose davvero hot che mettono in evidenza le sue curve mozzafiato ogni volta manda il webin delirio sui social è sempre più amata e seguita oggi la modella e attrice conta 484 mila follower sul suo profilo instagram questi non perdono occasione per farle notare quanto sia meravigliosa in qualunque modo decide di mostrarsi fa impazzire sempre i fan poco fa sul suo profilo instagram ha postato una sua foto che la ritrae in versione sportiva indossa top corto e pantaloncini che esaltano il suo corpo favoloso con la sua bellezza e le sue curve da sogno Cristina Marino sta spaccando instagram è stupenda grazie a tutti